Buon pomeriggio a tutti ragazze e ragazze ed eccomi ritornata in questo nuovo video. Oggi parliamo di uomini e donne. Il lutto è una cosa tragica ed è proprio quello che è successo a uno dei protagonisti del turnover di uomini e donne. Il dramma da coronavirus sta colpendo numerose famiglie tra cui proprio quella di Salvio. Ve lo ricordate? Fidanzato di Luisa. Ai tempi in cui loro erano presenti a uomini e donne Luisa fu colpita in modo immediato come un colpo di fulmine proprio da Salvio. A distanza di pochi giorni la coppia decise di vedersi fuori dal programma per iniziare la loro storia d'amore e così fu. Infatti vivono innamorati e felici fino però ad un tragico momento di questi ultimi giorni in cui Salvio perde la sua adorata malma. Ed è proprio Luisa a comunicarlo su un post su Instagram con delle parole veramente con momenti per la sua adorata suocera. Vediamo un po' che cosa scrive. Il maledetto mostro scrive Luisa ha portato via anche te in una di quelle maledette case di riposo dovrebbero dovuto preservarvi e tenervi in un'ampolla. Poi Luisa scrive ancora rabbia tanta rabbia quella a chi non poterti stare accanto ha raccontato il loro primo incontro di quando loro due si sono conosciute e ha subito capito che questa donna la mamma di Salvio fosse una signora buona e solare. Infatti scrive una donna meravigliosa non si poteva non amarti se ne vanno senza una carezza senza che nessuno li stringe la mano senza neanche un ultimo bacio. Ci piace pensare che ancora ci ascolta e ci sorridi ora sei un angelo tra gli angeli le mamme sono eterne abbraccia anche la mia ciao Silia rimanai sempre nei nostri cuori. Queste le parole di Luisa, quell'abbraccio, quel bacio che purtroppo le persone che muoiono e dicono la virus non possono ricevere dalle persone loro amate. E l'ex protagonista del throne over di Uomini e Donne ci tiene a ricordarlo in questo lungo posto commovente.